Buonasera, salve, molto piacere. Io donna Est. Io no Romania, no Ukraine, no Belarusia, io tutto Est. Tu abituato quando pensare Est, questo suono di voce. E allora io fare e raccontare storia con questa voce. Io donna Est. Sì, venito qui in Italia per lavoro. Sì, tante persone venire qui per lavoro. Perché una mia amica dire un giorno a me, perché non venire Centro Europa? Ci sono tanti lavori che lì nessuno vuole fare. E allora alcune con me partire, io lasciare due bambini, lasciare il marito che come operaio lavora bene, però troppo poco per tutta famiglia. Allora ho pensato io, dare un anno, poi tornare a casa. Così noi fare casa per i miei bambini. Beh, alcune persone, alcune ragazze a fare escort, alcune ragazze a pulire. Per me è toccato badante. È conosciuto signor Dodò. Signor Dodò non chiama proprio Dodò, però lui è tanto anziano. E lui ricorda quando mamma, quando lui piccolo chiamava Dodò, vieni qui Dodò, torna qui Dodò. E allora io chiamare signore, signore Dodò. Così io pensare ogni tanto anche ai miei bambini. Un giorno Dodò, perché ha problemi intestino, sai quando un anziano scappa a puzzetta. Improvvisamente a me venire un po' a ridere. Allora lui girare, io fermato, risato, però lui direi, no ti prego ridi. Perché adesso tutti guardano me, anziano, nessuno ride più. Nessuno ride più con me. E io, allora a pensare, va bene, ridiamo insieme. Un giorno venire sua figlia a vedere me e Dodò. E Dodò scappa a puzzetta un'altra volta di nuovo. Allora io girare e farei, e allora noi ridere insieme. E io, tanto contenta, contento anche Dodò. Però a sera mi arriva un messaggio a me, telefono. E c'era scritto, tu non trattare così mio padre. Tu avere rispetto, perché noi, tu est, noi rispetto, perché tu non rispetto me e mio padre. Se tu vuoi fare pernacchia, perché non vai a casa tua a fare pernacchia tua ai anziani? Signore, perché i miei anziani morire da soli. E forse anche tu, anziano, morire da solo, perché tu non sapere che pernacchia non era offesa, era risata. Risata per lui, risata per me, perché noi passare tanto tempo insieme. E per non cercare di pensare a vita, noi ridere insieme di vita. Perché tu non capire? Comunque io est, io badante, l'hai raccontato tutto, tutto quartiere, che io ho rubato soldi, signor Dudù. Io non ho rubato niente, signor Dudù. Beh, ora, signor Dudù, cassa di riposo. Il signor Dudù non ride più. Io ho parlato con una mia amica, ha chiesto, Dudù, come sta, Dudù? Dudù non ride più. Dudù non esce più. Però io ringrazio tanto, signor Dudù, perché io vado a casa mia a raccontare ai miei bambini grandi lezioni di vita. Che quando la vita ti schiaffa già in faccia, quando ridi, però in realtà non ridi, però nessuno vede la tua vera faccia. Quando tutte le strade e porte si chiudono davanti alla tua faccia, tu non sei triste, tu non piaci, tu cambia strada, cambia faccia. E doni la tua vita, grande e grossa pernacchia. Perché c'è sempre un momento per ricominciare. Forse è proprio questo, smettere di vedere maschere e cerca di vedere mia fascia. Per favore, sempre e comunque, a questa vita e questi pensieri sbagliati, grande e grossa pernacchia. Grazie, signor Dudù.